Sul coronavirus ormai è stato detto davvero di tutto c'è un'ampia letteratura anche scientifica sui vari aspetti di questa epidemia che ci sta cambiando la vita però secondo me c'è una almeno una prospettiva uno sguardo un punto di vista che ancora sottovalutato un po negletto che è quello che mi riguarda l'unico su cui ho un minimo di competenza proviamo a fotografare la situazione un pacchetto di rna circondato da una capsula di proteine piccolissimo delle dimensioni di un decimilionesimo di metro ci ha sconvolto l'esistenza oltre alle vittime ai costi sanitari ai costi economici come è possibile questo proviamo a guardare da questa vicenda da un punto di vista evolutivo beh innanzitutto questi organismi non sappiamo bene se definirli viventi o semi viventi sono antichissimi sono probabilmente in circolazione su questo pianeta da più di 3 miliardi di anni questo significa che hanno avuto tanto tempo per infettare inizialmente batteri la lotta tra virus e batteri è una storia epica nell'evoluzione ed è durata tantissimo tempo e poi da 600 milioni di anni fa a questa parte anche questa lotta si è consumata tra i virus e vari agenti patogeni e i batteri e le piante gli animali gli organismi pluricellulari noi compresi ecco mentre loro sono antichissimi noi siamo una specie giovanissima abbiamo soltanto da 200 a 300 millenni questo è un primo punto importante perché loro hanno un certo vantaggio nel senso che sono molto più antichi di noi poi l'rna in particolare è una molecola è un biopolimero una catena orientata di molecole abbastanza instabile più instabile del dna forse più antica del dna perché qualcuno pensa addirittura ci sono alcuni evoluzionisti che ipotizzano che i primissimi esseri quasi viventi e protobionti assomigliassero proprio a dei virus a rna in ogni caso sono oltre che molto antichi quindi molto mutabili mutano molto velocemente noi al confronto siamo dei pachidermi invece lentissimi anche questo va tenuto conto perché può essere un aspetto come dire di nostra debolezza nei suoi confronti però adesso aggiungiamo anche gli altri aspetti quelli più recenti proviamo a guardare la questione dal punto di vista suo quello del virus beh noi siamo 7 miliardi e mezzo di potenziali ospiti siamo diffusi in tutto il mondo abbiamo inventato navi aerei treni per spostarci dove ci ammassiamo viviamo per la maggior parte di questi 7 miliardi e mezzo di esseri umani in città o addirittura in metropoli quindi dal suo punto di vista noi siamo un ospite perfetto al quale chiedere un passaggio per diffondersi perché ricordiamo che il virus obbedisce a un imperativo darwiniano primordiale che è quello di fare copie di se stesso indefinitamente finché può finché ce ne sono delle possibilità ma la questione è ancora più secondo me complicata e molto raramente si tiene presente questo aspetto noi non soltanto siamo un ospite perfetto per loro ma sciaguratamente negli ultimi decenni soprattutto abbiamo dei comportamenti che li favoriscono tantissimo per esempio depredare perturbare gli ecosistemi soprattutto le foreste primarie è una pessima idea se vogliamo difenderci da questi virus perché come ormai è stato detto tante volte alcuni di loro i più pericolosi sono quelli che hanno fatto il cosiddetto salto di specie cioè sono passati da un animale dove erano che ha fatto da ospite serbatoio dove loro erano nascosti perché questi animali hanno imparato a convivere con loro e hanno fatto il salto in un'altra specie in questo caso un altro mammifero come noi questi animali serbatoio possono essere i pipistrelli grandi pipistrelli come le volpi volanti ma anche i roditori scimmie allora se noi distruggiamo l'ambiente per esempio sostituendo la foresta primaria con che ne so piantagioni di palme o di altri di altre piante che attirano questi animali fuori dalla foresta questo significa aumentare tanto le possibilità di contatto con noi che non è una buona idea ma ne facciamo anche di molto peggio perché poi molti di questi animali selvatici esotici che è quasi sempre proibito cacciare e soprattutto commerciare noi invece li andiamo a prendere dalla foresta li portiamo fuori li mettiamo li carichiamo su delle navi e poi li mettiamo in mostra in questi mercati che non ci sono soltanto in cina ma ci sono un po in tutto il mondo che hanno delle condizioni igieniche pessime e quindi abbiamo visto tutti queste foto di questi mercati con questi animali di vario tipo anche appunto animali selvatici che non ci si aspetterebbe di vedere in un mercato ammassati vivi morti alcuni sono ancora vivi in gabbia lì vicino ci sono delle carcasse con liquidi corporei che si mescolano sangue dappertutto insomma condizioni veramente pessime poi esseri umani inservienti o clienti che li toccano che vanno lì a mani nude o addirittura che se li mettono addosso a torso nudo ecco in una situazione del genere che cosa volete che faccia un virus a rna cosa volete che faccia fa il suo mestiere cioè salta di specie se può farlo e se noi gli diamo tutte queste possibilità di farlo perché dico questo perché in tutta questa storia noi che siamo homo sapiens dovremmo avere un vantaggio rispetto al coronavirus noi abbiamo un cervello abbiamo un'intelligenza possiamo prevedere possiamo immaginare cosa potrebbe succedere quindi potremmo fare per esempio tesoro di quello che sta succedendo adesso per evitare che succeda altre volte tra l'altro è già successo molte altre volte è successo con il virus della rabbia è successo con ebola con l'ids con marburg con la viaria con la suina con la sars insomma è già successo tante volte e non abbiamo imparato perché tutte queste volte questi virus hanno fatto appunto lo spillover il salto di specie e tra l'altro alcune di queste epidemie come ebola sono in corso ancora adesso emietono tantissime vittime soprattutto in africa e non solo eppure se ne scrive e se ne parla pochissimo diciamo che i virus hanno degli avversari che noi possiamo scatenare contro di loro indipendentemente poi dall'urgenza dall'emergenza dell'epidemia del momento questi avversari sono la ricerca scientifica l'igiene il progresso sociale perché poi ricordiamolo che la povertà la diseguaglianza le carestie le guerre sono tutti alleati dei virus e poi naturalmente anche la protezione ambientale può sembrare strano ma c'è un legame molto stretto tra tutte queste vicende quindi noi evoluzionisti lo sappiamo se tu vuoi sconfiggere un nemico temibile come questo virus devi imparare a capire la sua logica ed è una logica evolutiva